Sto trattando un carico per la legione straniera, ci sono 200.000 franche, che ne dici, ti interessa o no? A te 3 o 4 viaggi sono a posto, ne voglio andare di qua. E' clara. E' clara un altro uomo. Io Pietro non lo amavo più, lo sai? Dovevo essere onesto con lui. Sei pronto a prendere il mare largo? Sono navi militari francesi, è meglio cambiare l'otta. Lo sa quanti soldi ha fatto François con le assicurazioni? Non pata con quelle navi. Tu mi fai salire su nave? Mi porti via? Mi porto via. Mi porto via? 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 Grazie a tutti